Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Oggi faremo la sfida di rondate a salto struppate e ognuno di noi ne deve struppare tre e la prima che ne struppa tre vince se però si fa un passo indietro quindi senza struppare o avanti si riparte dal numero in cui si era se invece si cade si riazzere e bisogna ristrupparne tre ok ognuna ovviamente visto che siete in nove terrà i propri conti perché io non sono una macchina non ce la posso fare via partiamo! Vai! No? No? Chiara peccato! Niente! Sirene! 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 Amira quasi! Primo giro è stato un disastro! Un punton! Un punton! Nooo! Niente! Peccato per quel piedino Stop, un punto Non vale, non ho visto se è mosso Aspetta, mi afferma Non ho visto se è mosso i piedi Perché c'era il materasso davanti Li ha mosso, va bene Niente, niente, neanche Amira Stop, un punto Inizia il terzo giro Dai Peccato Sì No, chiaro, non puoi eliminare i salti brutti Mi dispiace Aspettate Che se parto una ruota Soffi, aspetta se non mi sto inquadrando E due Brava, un punto Quarto giro Non mi rai Sei a due, vero? Due punti Quarto giro Quarto giro E un punto Dai Dai Ma ti resisti Brava, soffi Chiara rimane a due punti Perché non è caduta Irene Amira 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 Li stai un po' buttando via E non vorrei dire Niente Sei viva No Non vale Boing Stopi, no Se la Chiara lo fa È a tre punti Tre punti No, però potrebbe essere ancora nello stesso giro A pari merito, eh Dai Dai Oh, Amira Oh, Amira Giulia Ti giochi lo spareggio Fai la brava Ole Ok, bruttino Ma era stoppato A questo punto direi che rimangono Inocchiare Giulia Andiamo avanti A due, a due Sempre un'ondata a salto La prima che sbaglia E l'altra lo fa giusto Ha vinto Sputate che mi allontano Vai Sì Vai Giulia E l'altra lo fa giusto 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 No No Gliel'hai lasciata facile alla prima Vince questa sfida Chiara Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Allora nel prossimo video Loro hanno proposto Di fare ginnastica femminile Prova Ginnaste Ginnaste Provano la ginnastica maschile Le mettiamo alla prova A quanti like facciamo questo video? 3 milioni Sì 3 mila Le No Facciamo a 200 like Li buttiamo sugli anelli e sul cavallo Va bene Ciao 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 Grazie a tutti.